Non è tanto, tanto rammarico perché le occasioni sprecate sono state un numero indefinito. Un po' di amare in bocca rimane, però mi piace uscire da questa gara con la consapevolezza di avere le qualità, di poter fare un'ottima gara di ritorno. Sì, perché al di là dei gol sbagliati, oggi la Juve ha fatto la partita, a tratti ha veramente dominato e ha fatto vedere a tutti che sa giocare a calcio e non è un dettaglio. Abbiamo fatto bene, dobbiamo sicuramente curare dei dettagli perché sapevamo che sugli errori potevamo essere puniti perché erano molto bravi a recuperare il pallone e attaccare la prondità. E qualche pallati troppo gli abbiamo concesso, però ripeto, sono contentissimo di come abbiamo approcciato la gara in un ambiente totalmente diverso da quello a cui siamo abituati. E sono contento del dominio che abbiamo avuto nel gioco e delle occasioni che abbiamo creato. Peccato per il risultato, ma credo che sicuramente andremo ad affrontare un'ottima squadra perché l'abbiamo visto, ma abbiamo le carte in regola per poter fare bene. Ecco, a qualcuno forse oggi saranno un pochino tremate le gambe perché il palcoscenico era diverso appunto, è davvero spettacolare. E poi volevo farle anche un'altra domanda, le dimensioni del campo di gioco hanno messo un po' in difficoltà i ragazzi, soprattutto nel primo quarto d'ora, i primi venti minuti? Ma non voglio dire una cosa azzardata, ma credo che le dimensioni siano uguali a quelle di Vinovo. Sicuramente l'ambiente è totalmente diverso, non è facile per questi ragazzi, però è un'esperienza importante che ci serve e ce ne servirebbero tante di più. Bellissima l'atmosfera, bellissimo lo stadio, bellissima tutta la gente che è venuta. Peccato non avergli dato la soddisfazione di aver fatto almeno un gol, ma credo che l'avremmo meritato. Mi auguro di riuscirlo a fare al ritorno. Vista nulla ancora perduto, cosa dirà in vista del ritorno ai ragazzi? Quello che hai appena detto tu. Le motivazioni non mancano, ma ci sarà anche da affrontare una gara per vincerla. Evidentemente è anche un atteggiamento tattico diverso da oggi. Ma credo che se riuscissimo a riproporre la stessa partita di oggi forse avremmo buone possibilità di poter vincere il trofeo. Grazie mister.